Prima che abbia inizio il workshop dell'incontro The Network One qui in True Company, chiacchieriamo un attimo di creatività. La prima domanda ovviamente è scontata, ma in epoca di dati la creatività, insomma the creativity first? E la risposta ovviamente è no, non è remontamente. Ma ovviamente la gente pensa che la tecnologia è un sostituto per la creatività, e non è. Quindi credo che questa è una domanda molto importante che stiamo spiegando al momento, perché programmatic significa che adesso che avversari possono trasferire messaggi sui media digitali a persone che si trattano proprio precisamente. L'unico problema è che se ti trattano precisamente, ma ancora trattano un messaggio di vero, è ancora vero. Do you know what I mean? In fact, è diventato vero. Perché ti comincia a riconoscere che ti ti trattano, e che è rilevante a te, ma è proprio vero. E questo ti rende freddo. Quindi cosa fai? C'è una domanda molto interessante. Sì, credo che la natura della creatività, ha cambiato. E per me, il nuovo modello, credo, è data-driven. Quindi, data leads a insights. E poi, insights, quasi sempre, lead ad ideas. E poi, se puoi innovare, off the back of that, hai brand communication, come dovrebbe essere realizzato nel 21st century. Ma tutto comincia con data. e, ovviamente, data può essere tutto. Ma cosa succede è che metà data, big data, rivelazano, con le persone scegliere, ciò che pensano e pensano, non ciò che pensano pensano e pensano. Quindi, per me, è come la rivoluzione digitale ha completamente cambiato la forma di pensare di pubblicità, e la forma di pensare di pubblicità. Quindi, come ho detto, data leads a un insight. Per esempio, quando ho parlato con Procter & Gamble sull'attività della lavanda, quindi hanno brand come Arial e Omo, io ho guardato a YouTube, e c'erano un sacco di video sull'attività, 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 sull'attività di lavanda. Chi guarda queste? La ragazza di 18-22, e la maggioranza delle persone guardate queste video. Perché? perché hanno appena passato a università, sull'attività. Quindi, quando si vengono a YouTube sull'attività sull'attività, sull'attività sull'attività, sull'attività 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 e le agenzie, quindi, come si devono organizzare oggi per rispondere a queste esigenze? I think one of the things that I've observed is that agencies are finding it really difficult to be able to structure themselves in order to deal with the new criteria of creativity because, on the one hand, what we see are digital agencies and digital agencies are filled with people who are used to making things, so what they do is they make apps, they make platforms, but quite often they don't understand marketing strategy. Ad agencies do understand marketing strategy and they understand targeting, but what they don't really get is digital. a lot of ad agencies think that digital is putting a long-form video onto YouTube and it's not, digital is actually about transformation of business as much as anything. So very few, very few agencies have actually connected the whole lot together. When they do, they're very very successful, but yeah, it's a problem, but, of course, like all these things, it won't be a problem for much longer because you adapt, you have to. Alla luce di tutto ciò, quindi, la creatività ha sicuramente delle sfide da vincere e considerando anche il fatto che tu partecipi a ZOO, il Think Tank di Google, quali sono, insomma, come le potremmo sintetizzare queste sfide? Well, the challenge for creativity today is to get advertising that's noticed and, as I was saying earlier, here at True Agency, 85% of all communication is just not noticed at all, and so, how do you use technology to be able to talk to the right people and give them the right message at the right time and in the right place? So that's bringing together technology, but it also needs the creative mind in order to be able to engage with it. And so, when I was heading up the ZOO, which is Google's creative think tank, we existed in the first place to be able to try and persuade people, CMOs, people who run companies, that they could build brands online through digital platforms. A lot of people think that digital is about transaction, it's about the click, it's about the buy now, but actually it's a fantastic space to be able to, as I say, build brands. And that's what we were talking to clients about. But as I say before, like talking to Gianni Cesarini, who ran Procter & Gamble's laundry division, going to him and showing him something about his brand and his customers he didn't know. and that's what digital throws up. It throws up these insights that brand managers don't know about their customers. And that's what we were doing. Once we were able to do that at the ZOO, then we were devising strategies and suggesting ways that they could apply creativity in order to reach more people and do better things and grow their brands and grow their business. I could conclude that back to the future, in the sense that the insights are more powerful even though the digital and the data do it as a patron. Excellent. One of the things I found fascinating about banner advertising, display advertising, the best book written about how to do great online advertising was written in 1936 by a guy called John Caples. And all of those, he wrote a book called Tested advertising methods and they still apply. In fact, they apply more than ever right now. So if anyone's watching this, read the book if you want to do advertising that people notice.